Buongiorno a tutti, oggi a Legrone Immobiliare vi propone l'affitto, l'appartamento, il sito in Pavia, la zona e quella della stazione, più precisamente è un grande buon locale. Come vedete in questa stanza qua c'è tutto, tavolo con le sedie, possibilità di ospitare una seconda persona, doppi vetri, questo qua è l'angolo cottura con frigorifero, gas e forno elettrico, ovviamente anche lavandino. Perfetto, adesso andiamo a dare un'occhiata al resto dell'appartamento, qua ci sono anche due scrivanie per studiare, l'armadio per i vestiti che è quello, che è un armadio capiente, quindi per una ragazza è più che sufficiente, ed infine andiamo a dare un'occhiata al bano. Scaldasalviette, questo qua è un piccolo antibagno, ed infine bagno vero e proprio con la finestra e la doccia, che è questa. Perfetto, poi spese condominali sono all'incirca 90€ al mese, c'è compreso riscaldamento d'inverno, aria condizionata d'estate, acqua, spese di portineria, luce comune e luce comune dell'ascensore. Grazie. Grazie.